Grazie a tutti. Nelle sessioni di risoluzione globale dei traumi emerge costantemente. La frammentazione interiore tra l'altro è una delle caratteristiche della nostra società contemporanea sia a livello sociale che a livello individuale. Una delle modalità in cui possiamo ripristinare la coerenza interiore, l'integrità e quindi ripristinare i collegamenti tra una delle parti e l'altra, teniamo conto che ne abbiamo moltissime, è quella di utilizzare il corpo fisico. Noi non siamo il nostro corpo, abitiamo il nostro corpo e possiamo però utilizzarlo proprio per ripristinare la coerenza interiore. Quindi, spesso nel lavoro di risoluzione globale dei traumi, la frammentazione che viviamo a livello interiore, a livello mentale, spirituale, si traduce nel sentire parti del corpo scollegate le une dalle altre. Ad esempio, uno dei casi più comuni è il sentire che la mia testa è scollegata dal cuore, quindi non so bene dove stare. A volte la mia testa dice delle cose o mi sento in un certo modo nella testa o penso e il cuore si sente in un modo completamente diverso, per cui non riesco a trovare una coerenza tra queste due parti. Quindi, utilizzando il corpo, posso ad esempio mettere una mano sul cuore e una mano sulla testa in corrispondenza della fronte, come sto facendo in questo momento, respirando e ascoltando che cosa succede dentro di me. Quindi, lo scopo è di ripristinare il collegamento tra queste due parti del corpo fisico, la testa in cui avvengono i pensieri e il cuore in cui avvengono le emozioni, i sentimenti, o perlomeno consideriamo che sia così. E lascio che in questo momento la testa e il cuore si parlino, non ovviamente sotto forma di parole, ma comunichino tra di loro, si stabilisce un contatto. Se a un certo punto mi stanco, posso anche cambiare mano e mettere le mani in questo modo. E' importante che il cuore, consideriamo il cuore energetico, quindi il cuore al centro del petto e non il cuore fisico che si trova nella quasi totalità dei casi sulla sinistra. E scelto l'effetto che fa, senza cercare qualcosa di particolare, per esempio può darsi che mi senta più calmo. Un'altra possibilità, ad esempio, sto facendo degli esempi i più comuni, ma ce ne sono tantissime, è quella di collegare il cuore alla pancia, quindi il sentire del cuore al sentire della pancia. Quindi metto una mano al centro del petto in corrispondenza del cuore e un'altra più o meno dove c'è l'ombelico, sul ventre e la pancia, e lascio che il cuore e la pancia si parlino, respirando. E anche qui uno degli effetti più comuni è che immediatamente mi calmo o c'è più calma, mi rilasso o c'è più rilassamento. Senza cercare questi effetti, lascia che vengano da sé, se vengono. Se mi stanco posso scambiare le mani e respiro e porto l'attenzione dentro di me, dentro il corpo, mentre sto toccando queste due parti, ripristinando un collegamento. Oppure può essere anche pancia e testa, per esempio. Oppure possiamo, le due parti della testa, i due lobby, sinistra-destra, o altre parti del corpo sinistra-destra. Quindi il toccare da me il corpo, il mio stesso corpo, in questo modo, mi aiuta a sentire che ho un corpo, perché la mente sa che ho un corpo, ma altra cosa è darmi la possibilità di sentirlo. Questo è fondamentale. E questi esercizi servono inoltre se ti senti sovra-eccitato o se appena hai vissuto un evento traumatico, per esempio se hai visto un incidente automobilistico passando per strada, o addirittura se sei rimasto coinvolto in un incidente o se sei stato aggredito da qualcuno, o nei momenti in cui senti che c'è una sovra-eccitazione emozionale o c'è troppo dentro di te, puoi utilizzare questi semplici esercizi per calmarti e ritornare presente a te stesso. Vorrei mostrarti ancora un'ultima possibilità per questo esercizio, che riguarda il dare contenimento al tuo sentire. Cioè, quando abbiamo appena vissuto, per esempio, un evento traumatico come quelli che ti ho citato prima, piuttosto che ci sentiamo sovra-eccitati o ancora ci sentiamo per aria e non sappiamo bene dove ci troviamo, ci perdiamo anche mentalmente, questo succede spesso nella vita frenitica quotidiana, puoi utilizzare questa postura del corpo, proprio per ritornare nel sentire del corpo e per dare un contenimento al tuo sentire e dare un contenimento alla tua essenza, alla tua anima, alla tua coscienza, chiamala come ti pare, all'interno del corpo, così che il corpo funge un po' da supporto di quello che realmente sei. E la postura in questo caso è questa. Quindi metto le palme delle mani in contatto con i muscoli esterni delle braccia, il tricipite o le spalla, senza stringere troppo perché altrimenti mi sentirei un po' angabbiato, ma sento la parte esterna delle spalle. Un po' come abbracciare te stesso. E automaticamente questo aiuta moltissimo a portare l'attenzione verso dentro, piuttosto che verso il fuori dove siamo identificati costantemente. Anche qui se ti stanchi puoi cambiare mano e puoi stare in contatto così per tutto il tempo che vuoi, qualche minuto, finché senti un effetto di calma, di rilassatezza o di esserci. E alla fine ritorni semplicemente nella tua vita quotidiana.